Scappano dalla guerra, dalle bombe e giungono carichi di dolore e di speranza. L'accoglienza anche sul territorio dell'agro sarnese Nocerino sta dando delle grandi ed importanti risposte, grazie alle associazioni, ai comuni, alle parrocchie e non da ultimo agli ospedali. Così è accaduto a Scafati quando una mamma ucraina con il figlio piccolo di appena 4 anni sono risultati positivi al Covid-19. Dall'ospedale Mauro Scarlato l'attivazione di tutti i protocolli con i controlli del caso, sia la mamma che il piccolo, non hanno avuto per fortuna necessità di ospedalizzazione e sono ora in isolamento presso la casa di accoglienza. Negli ospedali si è attivata immediatamente un'importante macchina organizzativa per l'accoglienza e la risposta sanitaria su tutto il territorio regionale. Diciamo che non più tardi della settimana scorsa siamo stati interessati da un'associazione di volontariato del territorio su Scafati dove ci hanno segnalato un caso di una mamma e di una figlia ospiti presso qualche famiglia di Scafati che aveva dei problemi respiratori, aveva difficoltà nel respirare, sono stati interessati in prima persona. Abbiamo attivato un percorso, è stata vista dai pneumologi di Scafati e alla fine dopo un'indagine diagnostica e completamente il percorso diagnostico è risultata positiva. Diciamo le condizioni non erano per l'ospedalizzazione e quindi in maniera protetta l'abbiamo affidata alla famiglia dove stava diciamo ad alloggiare. Ovviamente dando la nostra disponibilità per qualsiasi tipo di problemi che avesse avuto. Al di là di questo fatto specifico la regione Campania si è attivata così come tutte le regioni d'Italia per quanto riguarda su un piano di accoglienza di questi profughi che in effetti effettivamente hanno bisogno di aiuto. Noi per quanto riguarda le farmacie aziendali, le farmacie presidiali stanno fornendo farmaci, dispositivi che vengono mandati in Ucraina e ovviamente noi si stiamo già adoperando per quanto riguarda gli ospedali su un piano di accoglienza se ci fosse necessità perché poi comunque già lo facciamo al di là di fatto specifico con questi diciamo cittadini extracomunitari che vengono accolti anche se non hanno diciamo come devo dire autorizzazione perché il nostro sistema sanitario nazionale garantisce questo. Ci attiviamo con un codice diciamo di servizio che gli consente fino a che non definiscono la loro situazione sul territorio nazionale di poter ovviamente afferire alle strutture che mettiamo a disposizione. Per quanto riguarda i pazienti covid sicuramente procederemo e questo già l'azienda su indicazione regionale metteremo a disposizione posti letto per pazienti che sono positivi che però devono presentare sintomatologia acclarata e quindi anche in maniera sociale facciamo questi ricoveri pure se hanno non hanno proprio bisogno di un'ospedalizzazione come dicevo prima abbiamo la disponibilità e creeremo dei reparti che già sono pronti per l'accoglienza di questi pazienti. Quindi c'è tutto un momento di organizzazione per fronteggiare questa cosa per quando riguarda l'aspetto ospedaliero nostro.